Oggi stiamo realizzando un convegno, un workshop sull'efficienza energetica organizzato da BIT, CNA di Parma e Banco Emiliano, una BCC del territorio, per favorire dei percorsi di efficienza energetica per famiglie, imprese, condomini su un tema di particolare attualità e quindi abbiamo predisposto un percorso che agevola questo tipo di iniziativa, sia dal punto di vista del credito che dei professionisti e delle imprese accreditate per realizzare degli interventi sugli edifici di qualsiasi tipo, appunto volti ad efficientare e ridurre i costi energetici. Nella continua ricerca di opportunità per le nostre imprese, CNA oggi volentieri ha partecipato a questo workshop con un istituto di credito che si mette a disposizione per offrire ulteriori opportunità alle nostre imprese, ai cittadini, a tutti coloro che si vogliono occupare o hanno interesse nell'efficientamento energetico. Tema di assoluta attualità che stiamo ricercando da tempo e da parecchio che CNA è a fianco delle proprie imprese, ma dicevo dei cittadini, di tutti coloro che hanno a cuore questo tema, per far sì che continui ad essere un'opportunità. Un percorso virtuoso che vogliamo portare avanti, non solo qui a Parma ma anche in altri territori, ma che parte da qui proprio perché riteniamo che vi siano le condizioni di operatori qualificati per agevolare appunto questa tipologia di intervento. Il workshop di oggi crediamo offra davvero quell'opportunità in più, quel anello della catena che ci mancava, cioè la possibilità di finanziare, oltre ai molti servizi che mettiamo a disposizione come associazione, anche l'opportunità di finanziare, ci auguriamo a condizioni di favore le molte attività che possono star dietro ad un utilizzo migliore dell'energia, all'efficientamento energetico dei nostri edifici, delle nostre imprese, dei nostri cittadini, certi di dare anche con questa occasione un'ulteriore opportunità alle nostre imprese ma altrettanto alla società.